Emergenza siccità a rendere permanente la cabina di regia e nominare un commissario straordinario con poteri esecutivi. Sono le due decisioni uscite dalla riunione interministeriale a Palazzo Chigi per l'emergenza siccità presieduto dalla premier Giorgia Meloni. L'obiettivo resta contrastare l'emergenza idrica, prevenire i fenomeni di siccità e le loro implicazioni dall'agricoltura alla produzione di energia. Il governo è dunque a lavoro per un decreto legge sull'emergenza siccità con la figura di un commissario ad hoc, una cabina di regia fra i ministri interessati e semplificazioni delle procedure per gli interventi necessari. Ben il governo sulla crisi idrica, commentato il governatore di Regione Lombardia, Tilio Fontana, sono soddisfatto dell'istituzione a Palazzo Chigi di una cabina di regia tra tutti i ministeri interessati per definire un piano idrico straordinario d'intesa con le regioni e con gli enti territoriali per individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione. Lo Stato delle riserve idriche in Lombardia, secondo Ambi Lombardia, l'associazione che riunisce 12 consorsi di bonifica e irrigazione della Regione, vede un deficit di oltre il 55% rispetto alla media, ha concluso Fontana, occorre dunque agire tempestivamente. Intanto per venerdì 3 marzo è stato fissato il vertice a Regione per individuare priorità, strategie e azioni da mettere in campo per gestire la prossima stagione estiva.